Signori eccoci tornati carissimi con la giornata, la terza giornata di campionato dei sub di febbraio che ha visto vincere una new entry JJGG con una grandissima finale in finale contro il mitico Linfor che gli ha dato battaglia e si è giudicato 5 punti quindi vittoria del torneo va a JJGG con 10 punti, Linfor ne prende 5 terzo posto per Giallino che si riconferma ad ottimi livelli proprio come lo stesso AIM che arriva a quarto, quindi due semifinalisti e due punti, un punto per tutti gli altri nipotini la classifica così a una giornata dalla fine della classifica del campionato di febbraio è così giunta primo posto per Ideria Knight da solo con 16 punti Pretorian e JJGG con 10 punti ancora possono dire la loro ma anche Movius Caffè e Linfor possono ancora arrivare i primi che sono terzi a pari merito quarto posto per Donosan AIM 13 e Giallino con 5 punti 4 punti per Profeta al quinto posto e altri nipotini con 3 punti quindi è ancora tutto da decidere, è ancora tutto da decidere ragazzi noi ci becchiamo martedì prossimo, l'orario è cambiato adesso non sarà più le 20.30 all'inizio del torneo ma saranno le 21 ci si becca, è bello grazie a tutti